Siamo contentissimi, abbiamo aderito a questa iniziativa ovviamente di questa serata dedicata proprio all'apertura dei musei, la serata europea dei musei e quindi ci siamo messi a disposizione, abbiamo sposato in pieno quello che è ovviamente il sentimento e la finalità di questa iniziativa, quella di avvicinare i giovani alla scoperta dei musei e delle opere che abbiamo all'interno perché spesso e volentieri non si conoscono e non conosciamo bene, non sappiamo apprezzare quello che abbiamo a casa nostra. Quindi un'iniziativa importante da ripetere e Palermo ha colto ovviamente ancora una volta nel segno sulla stessa scia delle iniziative che abbiamo sposato rispetto alla gratuità e all'accesso ai musei. Fa tutto parte chiaramente di un percorso che non inizia da oggi? Assolutamente no, per me è tutta programmazione e progettualità. Insieme al Governo regionale e al nostro Presidente abbiamo sposato tantissime iniziative finalizzate ovviamente a implementare, a far conoscere ai cittadini siciliani le bellezze che ci sono ovviamente all'interno dei nostri musei ma anche all'interno dei nostri parchi. La Sicilia è la terra più bella del mondo, noi abbiamo il 19% del patrimonio culturale e monumentale all'interno della Sicilia e quindi un dato degno di nota che fa grande la nostra meravigliosa terra. Grazie.